Mercoledì pomeriggio Papa Francesco ha ricevuto in udienza il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Tran Dai Quang, che si è poi incontrato con il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati. Nel corso dei cordiali colloqui, si legge nel comunicato della Sala Stampa Vaticana, sono state evocate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e il Vietnam, sostenute da un comune spirito di dialogo e di costante ricerca degli strumenti più idonei affinché esse possano ulteriormente progredire. Ed è stata evidenziata la collaborazione tra la Chiesa e lo Stato in vari ambiti della società locale.